Se dice che la moglie o il marito sono sargoprestato, ma con me non è possibile. Magari non mi fossero sposati, ma tu ci pensi? Ma madonna mi ha parlato a te, perché volessi giurarmi te? Mi disse, giro un mondo lì in te e fuori, ma ando con Martina, con grazie a te. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da lì. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco. E ringrazia ti che si viste tu, a me ne regalata da poco da poco da poco da poco. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info